Sembra fatto a caso ma non lo è, nel senso che una questione di cuore è il cercare di riavvicinare più persone possibili a questa società, ma soprattutto ai colori della maglia, al cavallino, quello che per noi è una questione di cuore la nostra squadra, l'Arezzo, quindi spero che i tifosi capiscano l'importanza di sottoscrivere l'abbonamento, ma soprattutto di farlo con il cuore. Domani fino al 28 di luglio gli abbonamenti saranno venduti allo stesso prezzo dello scorso anno, gli abbonamenti si vendono qui nella sala stampa dove i tifosi troveranno già allestito le postazioni, quindi cerchiamo di dare un servizio più fruibile e maggiormente dettagliato. Poi sì, dal 2 di agosto ci sarà un aumento nei biglietti che finirà, nell'abbonamenti che finirà fino al 2 di agosto. All'interno degli abbonamenti, come poi quando verranno a sottoscrivere troveranno tutte le informazioni, non è compreso la Coppa Italia Team e la Coppa di Lega Pro come di consueto, ma in più, visto che l'anno scorso non c'è stata una comunicazione effettiva, quest'anno le giornate a Maranto saranno due, quindi una nel girone di andata e una nel girone di ritorno a discrezione della società che comunque verrà comunicata abbondantemente prima o quantomeno in corso di opera. Ecco direttore, ovviamente non possiamo non fare riferimento anche alla stagione che sta per cominciare e tra due giorni di fatto iniziano i test atletici, nelle prossime ore dobbiamo aspettarci anche le prime ufficialità per quanto riguarda il mercato. Sì, quello assolutamente, io credo già da oggi pomeriggio, abbiamo già dei contratti sottoscritti con alcuni giocatori, ma credo che da oggi pomeriggio a giovedì, anche se poi sono solo test atletici da fare qui allo stadio, il vero ritiro inizia domenica pomeriggio, ci saranno diverse novità, credo facciano piacere a noi ma anche ai tifosi stessi. Quindi possiamo dire che l'Arezzo partirà per Chianciano con, non dico l'ossatura completa, ma con un organico già a buon punto? Sì, sì, penso di sì, penso assolutamente di sì, credo che per domenica c'è un grande lavoro che stiamo mettendo su in queste ore, nei giorni passati e credo che tra domani e l'altro avremo dettagliatamente un'idea più ampia della Rosa, quindi sono molto fiducioso insomma che per quando partiremo per Chianciano ci sarà una buona ossatura. e quindi Grazie a tutti.